Continuano ad aumentare i casi di nuovi contagi da coronavirus in Italia, Veneto, Lombardia, Emilia e Romagna, le regioni più colpite. Il governo chiede massima attenzione ai giovani. Questo pomeriggio riunione con le regioni per decidere sulla chiusura delle discoteche. Test rapidi da oggi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Nessun controllo invece a Milano, Bergamo e Napoli. Il graduale aumento ci preoccupa, devono essere prese misure di buon senso. Così il virologo Fabrizio Pregliasco sull'aumento dei contagi dal virus in Italia, che sottolinea si diffonde anche con il caldo, contrariamente a quanto si riteneva. In Europa scatta l'allarme in Francia dopo i 3.310 casi registrati nelle ultime 24 ore. Il Movimento 5 Stelle alle prese con la fase 2 dopo il doppio cambio di strategia annunciato dalla piattaforma Rousseau. Forti le tensioni interne evidenziate dalle critiche del capo politico Crimi e di Davide Casaleggio. Difficile il puzzle delle alleanze alle prossime regionali e alle comunali del 2021 con il Partito Democratico. Dopo 13 giorni di ricerca ancora nessuna traccia del piccolo Joelle, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana a Parisi, la donna ritrovata morta nelle campagne di Caronia nel Messinese. L'attacco alla madre e figlio da parte di alcuni animali è l'ipotesi su cui ora sembrano concentrarsi le indagini, ma restano molti interrogativi nella ricostruzione dei fatti. Continuano in tutta la Bielorussia le proteste dopo i brogli delle elezioni presidenziali di una settimana fa. Nella capitale Minsk in programma la grande marcia per la libertà promossa dagli oppositori del presidente Lukashenka che intanto rifiuta la mediazione internazionale e incassa il rinnovato sostegno di Vladimir Putin. Dopo l'umiliante eliminazione del Barcellona, il Manchester City a salutare la Champions League, la squadra di Guardiola è stata eliminata per 3-1 dal Lyon e di Rudi Garcia. Questa sera la prima semifinale di Europa League, Siviglia-Manchester United e domani toccherà all'Inter sfidare lo Shakhtar Donetsk. Buongiorno e benvenuti al Telegiornale della Sette, buona domenica. Purtroppo continuano a aumentare i casi di coronavirus nel nostro paese. Ogni giorno più vittime e più ammalati. Una curva dunque negativa che sale di pari passo con la preoccupazione per eventuali nuovi confinamenti. E da monitorare ci sono certamente gli oltre mille focolai attivi sul nostro territorio nazionale ma anche tutti quegli italiani che in queste ore stanno rientrando numerosi dalle vacanze. Negli aeroporti, ma non in tutti, come vedremo nel nostro servizio, si procede a tamponi obbligatori per chi torna da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Tampone in aeroporto più isolamento domiciliare è il protocollo che da questa mattina a Fiumicino i vacanzieri di rientro dai paesi ad alta incidenza Covid sono tenuti ad osservare. Le immagini dello scalo intercontinentale mostrano i box allestiti nell'area arrivi capaci di ospitare fino a 480 persone provenienti da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. I passeggeri appena sbarcati vengono sottoposti al tampone e poi inviati a casa dove dovranno attendere in isolamento la comunicazione da parte dell'ASL con l'esito del test. Anche a Ciampino, secondo l'aeroporto della Capitale, da questa mattina è operativa all'area controlli prevista dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore ormai da quattro giorni. Nessun controllo al momento negli aeroporti Lombardi, di Malpensa, Linate e Orio Alserio. Chi arriva a tempo fino a 48 ore per farlo dovrà contattare l'Agenzia di tutela della Salute per segnalare il rientro in Italia, ma in molti segnalano la difficoltà di mettersi in contatto con un operatore in questi giorni di festa. Anche nelle altre regioni si sta cercando di organizzare la macchina dei controlli per chi torna dalle vacanze, un numero di viaggiatori destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Solo in Liguria, ad esempio, ieri, giorno di ferragosto, sono arrivate un migliaio di segnalazioni al sistema sanitario regionale, tutte persone rientrate dalle vacanze nei quattro paesi indicati dall'ordinanza che hanno chiesto di effettuare il tampone. Ma la Liguria, sotto i riflettori, anche perché in serata salperà dal porto di Genova la prima nave da crociera dopo cinque mesi di stop, tutti i passeggeri, 4.200, quelli prenotati, dovranno sottoporsi a un tampone e attendere 40 minuti prima di avere il via libera definitivo all'imbarco, dove dovranno indossare un braccialetto elettronico per tracciare tutti i contatti a bordo. La costante ascesa dei nuovi contagi, ieri erano 629 con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le regioni più colpite, potrebbe portare nelle prossime ore a una nuova serie di restrizioni agli assembramenti dovuti alla movida estiva. Questo pomeriggio alle quattro è prevista una riunione tra ministri e governatori regionali. Si cerca un accordo per varare un provvedimento nazionale su feste e locali da ballo. Il governo è intenzionato a chiudere le discoteche. Tutto nel tentativo di arrivare a settembre con numeri ancora sotto controllo e garantire la riapertura delle scuole. Su quel fronte, mercoledì, si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico che dovrà pronunciarsi su obbligo delle mascherine e distanziamento per gli studenti. Temi che nelle ultime ore hanno provocato nuove polemiche tra dirigenti scolastici e ministero quando mancano appena 29 giorni all'annunciato avvio del nuovo anno scolastico. Ecco appunto, mancano davvero pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico e al rientro della piena attività lavorativa. Dunque sono davvero tante le domande che in molti si pongono. Vediamo allora che cosa dice, che cosa pensa Fabrizio Pregliasco, il professore che è stato in prima linea durante questa pandemia. Un aumento costante in Italia di nuovi contagi da SARS-CoV-2 al momento inferiore a quello di altri paesi europei con una carica virale non così violenta come quella della prima fase. Un campanello d'allarme? Il graduale aumento ci preoccupa perché evidenzia una situazione in cui ci sono più contatti, contatti che rischiano di far debordare la situazione, attualmente sotto controllo, ma il rischio di una ricrescita esponenziale dei casi può esserci se non si attueranno misure di buon senso. Gli esperti avevano spiegato che con il caldo il virus si sarebbe affievolito o in alcune regioni del nostro paese addirittura scomparso. È stato così solo in parte? Come già accaduto durante la prima ondata di coronavirus, il suo mutamento continuo stravolge i programmi e gli studi di virologi e infettivologi. Come spiegare tutto questo? I virus respiratori vengono facilitati nella loro diffusione dagli sbalzi termici, dalle temperature più basse, anche perché si sta più in casa, si hanno più occasioni di contatto. Questo nuovo virus però lo stiamo vedendo anche nelle zone del mondo più calde, visto che è nuovo, riesce a diffondersi facilmente in una gran quota di soggetti suscettibili e anche in Italia continua a diffondersi, seppur con una minor capacità di trasmissione. Vedremo in autunno anche quando si mescolerà con l'influenza, dove sarà più difficile difidere queste forme da influenze, simili influenze e coronavirus. Rispetto ai primi casi negli ultimi giorni di febbraio e durante la prima fase del Covid in Italia, sono cambiate anche le fasce di età dei soggetti colpiti dal virus, dunque non più solo anziani o persone tra i 40 e i 50 anni, ma ora anche i più giovani. Per questo motivo gli appelli degli esperti, che invitano i ragazzi alla cautela, alla responsabilità, a evitare assembramenti, a utilizzare il più possibile le mascherine. Ma cosa è cambiato e come affrontare il momento? Le fasce di età più colpite oggi sono più giovani, ma è un dato legato oggi alla più ampia possibilità di eseguire test. Un tempo si facevano solo per i soggetti sintomatici. Oggi sappiamo invece che ci sono una quota rilevante, soprattutto fra i giovani, di soggetti sintomatici che nelle prime fasi non venivano tracciati. Questo dunque è quello che riguarda l'Italia. Nel resto d'Europa ci sono paesi dove la situazione appare anche peggiore. Eva tuttavia ha detto che occorre guardare bene i numeri e contestualizzarli anche al numero dei test che vengono effettuati. La Commissione europea a Bruxelles cerca di vigilare. Sappiamo che nei giorni scorsi è stato anche firmato un accordo per l'acquisto, quando ci sarà e sarà stato sperimentato di un vaccino. 400 milioni sono le dosi che Ursula von der Leyen ha ordinato. Si cerca di coordinare in ogni caso le misure di contenimento che sono messe in essere dai diversi stati europei. Nei possibili confinamenti, speriamo di no, nei prossimi mesi, nel prossimo periodo. Il virus non conosce frontiere, se non quelle che possiamo mettere noi stessi, attuando scrupolosamente il distanziamento interpersonale e lavandoci spesso le mani. Allora facciamo il punto sulla situazione nel resto d'Europa. 3310 contagi solo nelle ultime 24 ore, mentre sono 252. i focolai attivi a livello nazionale. Sono i dati peggiori dalla fine di maggio, quelli resi noti dal Ministero della Salute francese. Dal 1 agosto la Francia ha introdotto il test obbligatorio per chi proviene da paesi extra UE. Chi invece proviene da Turchia, Sudafrica, Algeria, Brasile, India, Israele, Kuwait, Madagascar, Oman, Peru, Qatar e Serbia, si può imbarcare anche senza test, cui però si verrà sottoposti all'arrivo e quarantena obbligatoria. La Germania, che in 24 ore ha visto impennarsi i contagi fino a 1400, ha sconsigliato di recarsi in Spagna perché è considerata una zona a rischio. Da sabato 8 agosto tutti coloro che provengono da aree considerate a rischio, e qui sono compresi anche i cittadini italiani, dovranno mettersi in contatto con l'autorità sanitaria di residenza, produrre un risultato negativo al test o sottoporsi a tampone. Le autorità del Regno Unito, che per il quinto giorno consecutivo hanno visto superare quota mille, hanno imposto una quarantena di due settimane a viaggiatori provenienti da alcuni paesi europei, tra cui la Francia, nessuna restrizione o misura al ritorno dall'Italia. Giro di vite anche nei paesi bassi, che da ieri sconsigliano di recarsi in sei province spagnole. Nonostante le indicazioni della Commissione europea, che ha chiesto ai paesi della UE di limitare le restrizioni a circostanze del tutto eccezionali, preoccupa e molto quanto sta avvenendo in Europa. In controtendenza la Russia, attualmente il quarto paese al mondo con più casi e che ha annunciato di avere prodotto il primo lotto del vaccino, ha fatto registrare quasi 5.000 nuovi contagi e 68 decessi nelle ultime 24 ore. È l'aumento più contenuto da fine aprile. Nuovo record in Corea del Sud, che nelle ultime 24 ore ha registrato 279 nuovi contagi, l'incremento maggiore dei primi di marzo. E' allerta anche in Giappone, dove per il terzo giorno consecutivo sono segnalati oltre 1.000 nuovi casi. Nuovo record giornaliero in India, il terzo paese al mondo per numero di contagi, con oltre 65.000 casi, più di 2.500.000 dall'inizio dell'epidemia. In Brasile il numero dei casi di Covid-19 è salito a 3.275.520, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 106.523. Nessuna flessione negli Stati Uniti, 47.913 nuovi casi, 1.029 decessi in 24 ore. Se gli americani non rispetteranno le misure per la prevenzione del coronavirus, ha avvertito il direttore dei centri per il controllo e la prevenzione, c'è il rischio del peggior fallimento sanitario mai avvenuto. Dunque, una situazione molto indivenire che cambia di ora in ora, di giorno in giorno. Ogni paese, come abbiamo appena visto, viaggia un po' per conto proprio. Di poco fa la notizia è che gli israeliani e gli stranieri con un permesso d'ingresso provenienti dall'Italia e da alcuni altri paesi per lo più europei, da oggi non dovranno più fare la quarantena di due settimane al loro arrivo in Israele. Questo lo ha deciso il governo su input del Ministero della Sanità e è stato anche confermato dalla nostra ambasciata italiana in Israele. Dunque, questo è un allentamento che forse dimostra come in Italia il paese più colpito per primo. La situazione in questo momento è, per fortuna, sotto controllo. Ora andiamo alla politica, perché in autunno, e anche qui mancano davvero pochi tempi, pochi giorni, e ci saranno le elezioni regionali. Elezioni vedremo con quale modalità verranno fatte, anche dal punto di vista sanitario. Tante sono le incognite, naturalmente in primis politiche. Per questo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che sono alleati di governo, stanno adesso cercando nuove intese, faticosamente, a livello locale. AAA, candidati comuni, cercasi. E' questo l'annuncio riemerso prepotentemente dopo il voto degli iscritti sulla piattaforma Russo. Annuncio finora Liguria. A parte, clamorosamente disatteso da due forze politiche, PD e Movimento 5 Stelle, che da tempo faticano a trovare la giusta sintonia tra centro e periferia, e al cui interno continuano a manifestarsi segnali di dissenso anche chiassosi nei 5 Stelle, decisamente più sorvegliati nel PD, dove, per esempio, il solo Orfini ha finora preso le distanze da questa alleanza salutata sia da Zingaretti che da Orlando, segretario e vice-segretario, come quella che potrebbe fare la differenza alle ormai imminenti regionali. Dove finora, un po' perché il PD ha fatto come oltrocene i repubblicani hanno fatto con Trump, e vedi De Luca in campagna, invotabile, non solo dai 5 Stelle, un po' perché i 5 Stelle continuano a voler perseguire la linea della solitudine, non troppo beata. Per la verità, la situazione è ancora di fatto in alto mare, con i candidati in purezza. 5 Stelle annunciati sempre via blog in giugno, giusto due mesi prima dell'apertura all'alleanza con i partiti tradizionali. Emiliano in Puglia continua a lanciare segnali, ma per ora è solo fumo, con la laricchia che tiene alla propria autonomia, così come Mercorelli nelle Marche. Proprio le due regioni dove, se messa in pratica, l'intenzione di realtà appena avallata dalla base del movimento potrebbe dare i suoi frutti, vista la corsa in parallelo coi candidati del centrodestra Fitto e Aquaroli. Ma almeno per ora siamo più che altro alle speranze ispirate al buonsenso, cosa di cui la politica italiana non è in parsa mai troppo generosa. Dopo Fassina, anche Fornaro di Leo caldeggia vivamente una soluzione rapida ora, ma le manovre in senso contrario sembrano essere già in funzione, specie in un Movimento 5 Stelle, dove, sì, Di Maio in effetti sembra convertitosi sulla via di Beppe Grillo, ma dove forti restano le resistenze. A parte il movimentista, Doc come di Battista, vedi le cautele, per non dire frenate, sull'accordo già espresse da Casaleggio e il reggente Vito Crimi. Il primo dice che il superamento del secondo mandato non vale per i parlamentari, il secondo dice che non è un via libera ad alleanze con chiunque. Per non parlare di Italia Viva, che contro Emiliano è piazzato addirittura del suo candidato e che la nuova alleanza la vede come fumano gli occhi, più o meno come la vede Forza Italia, che con la Bernini parla di fine del riformismo, di nuovo populismo ulivista, di patto dell'arrocco di potere. Ora la cronaca italiana, perché la procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 34 anni, travolta ieri con la sua automobile, mentre attraversava un passaggio a livello, è stata travolta da un treno regionale diretto a Mantua. I magistrati che indagano per omicidio colposo vogliono accertare dinamica e cause dell'incidente, soprattutto se c'è stato un malfunzionamento delle sbarre che durante i primi rilievi sarebbero state trovate alzate ed integre. I tecnici hanno escluso Guassi, la procura ha deciso di eseguire una perizia cinematica, un testimone ha raccontato di avere visto le due sbarre prima abbassate e poi improvvisamente rialzarsi. Nello stesso passaggio a livello che incrocia la strada statale 234 tra Maleo e Codogno, nell'Odigiano, tre anni fa un'altra vittima fece appunto la stessa drammatica fine e si trattava di un uomo di 77 anni. Il sindaco di Lodi intanto ha chiesto che questo passaggio a livello sia eliminato e molte persone continuano a testimoniare di malfunzionamenti che si sono registrati nel tempo. Un altro dramma, quello di Caronia in Sicilia, nel Messinese. Ormai sono passate quasi due settimane, 13 giorni per l'esattezza, dalla scomparsa insieme a sua madre del piccolo Joelle, il bambino di 4 anni di cui non si sa ancora nulla. Le ricerche sono incessanti, non smettono mai, ci sono tantissime persone al lavoro e sulla morte di Viviana Parisi, la madre che è stata ritrovata pochi giorni dopo. Gli inquirenti mantengono aperte un po' tutte le ipotesi, non ci sono infatti prove né certezze. Però sottolineano quanto sarebbe importante la testimonianza di alcuni, in particolare di una famiglia che si sarebbe fermata immediatamente dopo quel piccolo incidente a bordo di una auto grigia. Si tratterebbe di due persone, forse una coppia, con le loro due figlie. Le campagne di Caronia setacciate palmo a palmo da ormai 13 giorni. Non si sono fermate neppure a Ferragosto le ricerche del piccolo Joelle, ma del bambino, ancora nessuna traccia. Senza esito, il lavoro con unità cinofile e droni che sorvolano l'area dove sabato 8 agosto è stato ritrovato il corpo senza vita della madre Viviana Parisi. Una nuova pista all'ennesima si fa strada nel giallo della scomparsa del bambino di 4 anni. Gli inquirenti ipotizzano un'aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci. Un'indicazione in tal senso era arrivata anche dalla famiglia e le tracce di morsi sulle gambe della donna riscontrate durante l'autopsia avvalorerebbero queste ipotesi. La donna sarebbe salita sul pilone da cupoi e caduta proprio per sfuggire all'attacco degli animali. Ieri gli inquirenti hanno interrogato il proprietario di due rottweiler. I cani erano stati visti a girarsi proprio nella zona del ritrovamento del corpo di Viviana. Ma restano comunque tanti punti oscuri tra le incongruenze e le scarpe della donna che sarebbero prive di tracce di terra. Nonostante ci siano almeno 25 minuti di cammino in campagna per raggiungere il luogo dove è stato poi rinvenuto il cadavere. Continuano intanto gli appelli alla famiglia di turisti testimoni oculari dell'incidente stradale nella galleria Messina Palermo tra l'opelastra della donna ed un furgone. Appelli caduti nel vuoto nonostante gli inviti del marito di Viviana e del procuratore di patti Angelo Cavallo a farsi vivi per riferire ciò che hanno visto in che condizioni fosse la donna e soprattutto se il bambino in quel momento fosse vivo. Un'altra ipotesi al vaglio è che il piccolo ripreso da una telecamera seduto sul sedile posteriore dell'auto poco prima dell'incidente sia morto nello schianto e la madre sconvolta l'abbia portato via scavalcando il guardraile e dileguandosi nel bosco ma la famiglia non crede a questa ricostruzione l'incidente è stato di lieve entità dice l'avvocato e non ci sono tracce ematiche nell'auto della donna. Robert Trump il fratello minore del presidente degli Stati Uniti d'America è morto poche ore fa in un ospedale di New York dove era ricoverato da tempo per una malattia di cui non si conoscono i dettagli è con cuore pesante ha scritto Donald Trump in una nota che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello è morto non era solo mio fratello era anche il mio migliore amico Robert Trump aveva 72 anni due in meno del presidente ed aveva lavorato nell'impero immobiliare della famiglia Trump lo aveva visitato in ospedale venerdì scorso quando era già molto malato ora la Bielorussia perché dopo una settimana di grandi proteste e altrettante violente repressioni per la rielezione dopo 26 anni di potere del presidente Alexander Lukashenko la situazione non si normalizza affatto Lukashenko ha ottenuto il pieno appoggio di Vladimir Putin mentre la sfidante dell'opposizione che nel frattempo è stata costretta a riparare Lituania continua a fare degli appelli per la protesta pacifica è da metà mattina che queste immagini girano pur con una certa difficoltà vista la censura messa in atto sui social sono Pullman una lunga fila ordinata a bordo dei quali il regime di Alexander Lukashenko avrebbe fatto salire i suoi sostenitori o presunti tali per portarli a Minsk perché oggi è la giornata più importante così almeno sostengono tutti coloro che invece ormai sempre più apertamente si oppongono al lungo dominio del padre padrone della Bielorussia oggi a una settimana esatta dalle elezioni che lo hanno riconfermato per la sesta volta si fronteggiano due piazze quella voluta dal presidente e quella organizzata da Svetlana Tikhanovskaya la vera vincitrice dicono tutti coloro che giorno dopo giorno e sera dopo sera non hanno mai smesso di protestare dunque da una parte le bandiere bielorusse rosso-verdi a fianco e non è affatto un caso a quelle russe dall'altra quelle bianco-rosse le vecchie bandiere prese come simbolo dall'opposizione che oggi come dicevamo si aspetta una folla oceanica lungo la prospettiva dell'indipendenza che ha cominciato a muoversi da pochissimo intanto Lukashenka che a sorpresa ha fatto persino un'apparizione alla manifestazione in suo nome chiedendo di difendere l'indipendenza della Bielorussia ieri dopo aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Putin sull'appoggio al suo governo oggi si è nuovamente sentito con il capo del Cremlino mentre i suoi continuano ad accusare i paesi confinanti dalla Polonia alla Lituania di fomentare la rivolta rivolta che Lukashenka sta reprimendo con inaudita violenza e che proprio per questo ha causato fra l'altro l'intervento della potente chiesa ortodossa vicino si legge in un messaggio a questo popolo sofferente per il quale tutti gli ortodossi sono invitati a pregare così come del resto ha fatto anche Papa Francesco stamane all'Angelus nei giorni in cui Israele trova un accordo con gli Emirati Arabi rimonta la tensione in Palestina e finché non ci sarà calma nel sud di Israele non ci sarà calma a Gaza questo è l'avvertimento del ministro della difesa israeliana il premier alternato Benny Gantz secondo cui l'esercito riprenderà con piena forza ad ogni violazione della sovranità israeliana fino a che la calma totale non sarà ripristinata nel sud del paese Gantz si è riferito appunto alla tensione crescente con il multiplo lancio di palloni incendiari ordini esplosivi e razzi da Gaza verso il territorio israeliano seguiti alle risposte dell'aviazione dello Stato ebraico ora il gravissimo danno ambientale ecologico che si sta consumando a largo di Moriscius si è infatti spezzata in due la nave cargo ecco la vedete battente bandiera panamense incagliatasi davanti le coste dell'isola lo scorso 25 luglio i serbatoi della nave di proprietà di una società giapponese contenevano 4000 tonnellate di petrolio parte delle quali si sono riversate in mare compromettendo la barriera corallina al momento in cui la nave si è spezzata 90 tonnellate di carburante restavano ancora da aspirare dai serbatoi per il paese che dipende pesantemente dal turismo si tratta di un disastro non solo ambientale ma anche economico il calcio arrivati alle notizie sportive altra eliminazione eccellente ieri sera nei quarti di Champions League il favoritissimo Manchester City è stato battuto per 3 a 1 da Lione che dopo la Juventus ha fermato clamorosamente anche la formazione di Guardiola qualificazione a sorpresa dunque per i francesi allenati dall'ex romanista Rudy Garcia che mercoledì 19 affronteranno sempre in gara unica i tedeschi del Bayern di Monaco l'altra semifinale in programma invece martedì 18 in campo l'Ipsia e il Paris Saint Germain che ha interrotto il sogno europeo dell'Atalanta entrambe le partite inizieranno alle ore 21 e ora ancora tempo per l'Europa League vediamo ecco Europa League tempo di semifinali per l'altra coppa l'Europa League appunto si comincia questa sera con il Manchester United Siviglia in attesa della prova dell'Inter domani contro lo Shakhtar Donetsk il terzo incomodo nella vita nel calcio spesso sorride per l'aiuto indiretto di cui beneficia un esempio tangibile lo avremo stasera quando tra Manchester United e Siviglia una sola conquisterà la finale d'Europa League stiamo parlando delle squadre considerate come favorite per la vittoria finale con l'Inter spettatrice molto interessata il biglietto avviso a parla chiaro inglesi e spagnoli hanno alzato quattro delle ultime sei coppe con la formazione andalusa vera dominatrice della competizione sono cinque trofei con tre consecutivi tra il 2013 e il 2016 l'anno successivo la firma di Murigno per il Red Devils è arrivato il momento dello scontro diretto tra due allenatori Solskjaer e Lopedechi che hanno cambiato parecchio il voto delle loro squadre è folta la colonia dei calciatori che sono transidati dall'Italia con alterne fortune addirittura otto Statole e Manchester trovano un elemento molto atteso e quotato come Bruno Fernandes il talentuoso portoghese che in Serie A ha vestito le maglie di Novara Udinese e Sampdoria da gennaio è diventata una pedina fondamentale di Solskjaer segnando 11 gol con la specialità dei rigori l'ultimo contro il Copenhagen nei supplementari dei quarti nel Similia c'è un altro uomo d'attacco che ha vissuto un'ottima stagione l'argentino Campos che ha trascorso questa vigilia con un problemino al ginocchio fasciato per precauzione per l'ex meteore di Genoa e Milan 14 reti nella Liga è un contributo spesso decisivo davanti al televisore Conte con il suo staff prenderà appunti sperando di doverli utilizzare significherebbe che l'Inter ha conquistato la finale di venerdì prossimo e per farlo c'è da superare domani l'ostacolo Shakhtar Donetsk insidioso per il talento dei tanti brasiliani della formazione ucraina regolarità e autostima sono due connotati preziosi di questo momento Felice Denerazzurri con il tecnico che può contare sull'ottimo rendimento della spina dorsale Andanovic che ha subito solo una rete nelle ultime sei partite una difesa affidabile guidata al medio da De Vrij lo schermo rappresentato da Brozovic per arrivare al colosso Lukaku con i suoi numeri roboanti 9 gol su 9 gare in Europa League mentre la Toro Martinez è ancora secco nel torneo e magari potrebbe trovare l'acuto più atteso Infine i motori tra pochi minuti scatterà il Gran Premio d'Austria di MotoGP pole position per la Yamaha dello spagnolo Vignales e seconda fila per Andrea Dovizioso che ha annunciato il suo addio alla Ducati a fine stagione domenica in pista anche per la Formula 1 alle 15.10 il via al Gran Premio di Spagna con le solite due Mercedes di Hamilton e Bottas davanti a tutti lontane le Ferrari Leclerc partirà dalla nona posizione sesta fila invece per il compagno di scuteria Vettel dopo l'undicesimo tempo fatto registrare dal tedesco nelle qualifiche ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità dopo forse gli aggiornamenti Allora non ci sono rilevanti aggiornamenti delle notizie sono le 14.01 in punto a me non resta che ringraziarvi e augurare ancora una buona domenica arrivederci a me non resta a me non resta lontan a me non resta lontan